Buonasera signori a tutti Stasera si festeggia il compreando del grande e mitico locale Alchemica che grazie a questo locale possiamo suonare e ascoltare metal dal vivo Adesso vi faccio ascoltare un brano, si chiama Il Tempo Il Tempo Il Tempo Il Tempo Il Tempo Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.